Abbiamo fatto una frittata e questo è abbastanza evidente perché dopo essere partiti molto bene quando poi la partita si è sporcata abbiamo fatto fatica a mantenerla sui canali di pulizia come ci è più congeniale ci siamo un po' infilati nel loro modo di giocare come c'era già successo in gara 1 e questa volta ne siamo usciti scornati anche perché alla fine ci sono state situazioni molto poco convenzionali tipo una squadra che giocava con 5 piccolini, noi che non siamo riusciti a prendere dei vantaggi vicino al canestro abbiamo cercato in ogni modo di tamponare difensivamente anche con dei cambi sistematici complicati per mantenere un assetto con un lungo in campo e ci siamo riusciti ma non sempre però la verità è che abbiamo fatto una frittata ma nel momento in cui fai una frittata poi devi andare a rimediare, non è che adesso dobbiamo spararci un colpo alla tempia abbiamo perso, siamo 1-1, dobbiamo andare a Casale, abbiamo due colpi da sparare per riuscire a portare a casa almeno una vittoria e tornare qua o magari due vittorie e non tornare neanche qua secondo me noi ce l'abbiamo nelle corde, è chiaro che la squadra che abbiamo di fronte è una squadra scomoda una squadra molto scorbutica che ci ha messo in difficoltà per due volte in fila un po' secondo me c'è anche un aspetto mentale perché ci sono dei momenti nei quali noi abbiamo veramente il controllo della partita e basta un soffio di vento perché improvvisamente ci sentiamo in qualche modo indeboliti da un qualcosa che in realtà ci ha indebolito solo relativamente perché abbiamo avuto scarti anche costanti, li abbiamo tenuti costantemente e poi nel momento in cui loro si sono riavvicinati onestamente abbiamo un po' visto lo spettro della sconfitta e nonostante abbiamo agganciato la partita al supplementare poi la partita ci è scappata di mano ma ripeto, frittata è fatta quindi niente da dire ce la prendiamo ma sappiamo anche che abbiamo i mezzi per andare a giocare la nostra partita e portare a casa una vittoria a Casale. Ci sono saltati sulla testa, ci è già successo altre volte quest'anno e onestamente loro hanno preso anche tante conclusioni dal mid range e di solito quei rimbalzi lì sono dei rimbalzi non gestiti direttamente sotto il canesso, sono dei rimbalzi più lunghi e lì le nostre guardie devono essere, ora io non ho controllato le statistiche ma non mi sembra che nessuno sia stato eccellente dal punto di vista difensivo nel controllare questi rimbalzi lunghi, loro ne hanno sporcati tanti e poi ne hanno presi anche qualcuno in situazioni di cambio difensivo con i loro numeri 4 che sono andati a saltare sopra i nostri esterni è stata anche altre volte un nostro problema questo, se vi ricordate la finale di Coppa Italia noi abbiamo vinto la finale di Coppa Italia se non sbaglio soccombendo per circa 20 rimbalzi di differenza e nonostante la partita l'abbiamo portata a casa, sicuramente loro sono stati molto bravi in questo anche perché sono una squadra efficiente ma non così dominante al rimbalzo invece stasera lo sono stati dominanti e costantemente quindi sicuramente merito loro è un aspetto del gioco nel quale dobbiamo essere più combattivi anche se poi non posso dire che non siamo stati combattivi perché la partita è finita a 59 pari quindi non è finita a 111-110 59 pari è chiaro che quei tanti rimbalzi hanno avuto una valenza significativa e quella situazione nel supplementare in cui abbiamo avuto più da perdere che da guadagnare per certi versi perché non siamo mai riusciti a prendere un vantaggio dentro l'area e alla fine ci siamo un po' impiastrati da soli sul perimetro a parte l'inizio quando Michael ha fatto un canesso da tre punti che ci ha dato un po' il là e sembrava che potessimo scappare via invece non è stato così però ripeto frittata è fatta la portiamo a casa e pensiamo alla prossima